Dal 15 giugno al 14 luglio 2013 a Montegemoli e Pomarance nel territorio volterrano è in corso la quarta edizione di Marte, l'edizione 2013 della rassegna artistica che noi, è giunta la quarta edizione ma che noi abbiamo proposto ai nostri telespedatori nella più recente edizione, quella del 2011. E sarà una lunga maratona quella che ci aspetta questo pomeriggio perché sono tante le installazioni che abbiamo da visitare e da proporre ai nostri telespedatori, tanti gli artisti, tante le opere d'arte e quindi dobbiamo correre. Il nostro itinerario prende l'avvio dalla frazione Lacanova vicino a Montegemoli, insieme a me ci sono Elena Capone che è una critica storica dell'arte ben conosciuta dai nostri telespedatori che è la detta stampa di questa manifestazione e la curatrice anche del catalogo che l'accompagna sarà lei a indicarci l'itinerario che seguiremo da questo momento in poi per l'intero pomeriggio. E poi insieme a loro ci sono Rebecca Fish che fa parte dell'Accademia Libera Natura e Cultura che promuove questa iniziativa insieme al Comune di Pomarance e l'Associazione Turistica Pro Montegemoli qui rappresentata dal Presidente Sonia Zagaglia. Anche lei prenderà la parola ma direi di iniziare subito e velocemente con Elena perché sono tantissime le opere che abbiamo da proporre ai nostri telespedatori. Ora iniziamo con la prima che è alle nostre spalle ma prima di presentarla Elena introduce i nostri telespedatori alla conoscenza di questa quarta edizione della manifestazione magari con un supplemento per i telespedatori che non hanno avuto l'opportunità di vedere due anni fa il servizio che dedicamo a questo evento. Buongiorno, Marte è una manifestazione di particolare suggestione e di un interesse culturale abbastanza ampio che riguarda l'arte contemporanea nello specifico ma che si allarga anche nella riscoperta di borghi antichissimi, castelli, scenari naturali incontaminati che diciamo sulla scia di questa visita alle opere installative vengono anche rivalorizzati e riscoperti. E quella è una scusa se ti interrompo diciamo subito che la denominazione Marte si legge M apostrofo arte quindi non ha nulla a che vedere con Marte il dio della guerra perché è una manifestazione pacifica e spieghiamo perché è stato scelto questa denominazione. La denominazione è proprio riferita al centro nevralgico originario e ispiratore di questa manifestazione che è il borgo di Montegemoli nonché anche Castello nel territorio del comune di Cuomarance, un borgo medievale antichissimo. Sembra i Montegemolini sostengono ma ce lo dirà poi la Presidente della Prologo che Dante Alighieri sia nato proprio qua perché la sua mamma era originaria di Montegemoli e sembra che quando ha scritto l'inferno si sia riferito proprio ai vicini soffioni di Larderello che gli hanno ispirato la visione dell'inferno. Probabile, non è certo, certamente la madre si bella dell'abati. Però sembra che lui sia nato qui e è stato portato a Firenze appena nato. Sì, e comunque vedremo poi un lavoro di uno degli artisti partecipanti che lo riporta un po' nei punti originari. Bene, non andare via perché ci devi presentare la prima installazione Presidente, allora non è leggenda che Dante Alighieri c'è la possibilità. È però azzardato dire che Dante effettivamente sia nato a Montegemoli, noi non ci permettiamo. La sua mamma comunque sì. Pare che la madre, bella degli abati, sia probabile che possa essere nata a Montegemoli. Comunque, ecco, Marte, Montegemoli Arte nasce proprio nel 2007 come appunto una rassegna di arte contemporanea con installazioni e sculture, una manifestazione che negli anni diciamo è andata veramente increscendo. Inizialmente, infatti, le installazioni erano limitate al borgo antico e poi invece si sono allargate alla campagna circostante ad alcuni territori della Val di Cecina. Particolarmente quest'anno nel comune, proprio nel pomarancio, il nostro capoluogo. Comunque, ecco, Marte ha contribuito in questi anni e contribuisce senz'altro ad una valorizzazione e visibilità del nostro territorio e delle sue risorse. Queste sono anche le finalità stesse dell'associazione turistica che appunto si propone di valorizzare e di mettere così ecco in luce antichi tesori e quant'altro, ecco, riscoprendo proprio delle particolarità che sono proprie del nostro territorio. Vorrei ricordare anche che Montegemoli è una delle capitali italiane del pane. Eh sì, il pane veramente è un alimento che qui un fiore all'occhiello, lo vediamo proprio anche da questa località, il forno proprio immerso nella nostra campagna. Ecco, io dicevo, direi che come Presidente, ecco, mi sento veramente in dovere di fare un ringraziamento particolare a tutti coloro che quest'anno hanno reso possibile questa manifestazione, da coloro che hanno concesso gli spazi per le installazioni, agli sponsor, agli aiuti proprio dati agli artisti per le loro installazioni. E comunque ecco anche gli sponsor che sono stati veramente tanti e particolarmente un ringraziamento all'amministrazione comunale di Pomarance che veramente in questi anni ci ha sempre supportato, in particolar modo ecco, nella persona dell'assessore alla cultura Billy Cherry e quindi ecco, quello che ci poniamo e che ci auguriamo è proprio di poter continuare in questo cammino, quindi un cammino che veramente ecco ci offre la possibilità di un incontro speciale, proprio ecco guardando il nostro territorio e le nostre risorse, un incontro speciale dell'arte con la quotidianità. Quindi sarà un invito a visitare il territorio, soprattutto nelle località meno attraversate dalle strade di grande comunicazione perché qui transitano molti toscani dell'entroterra che vanno verso il mare, verso Cecina, verso la costa livornese, ma anche tantissimi turisti attratti dalle bellezze di Voltaire e del suo territorio. Rebecca, quando e come e perché è nata la vostra associazione? Questa è parte di Elena a spiegare tutto questo. Io faccio parte dell'organizzazione assieme a Ursula Fetter come Accademia Libera Natura e Cultura e insieme all'organizzazione c'è Marlene Mohn e Oreste Klamer. Tutti i cognomi evidentemente non toscani ma nemmeno italiani. Sì, io sono in Italia da 40 anni. Siete toscanizzati, un nucleo di tedeschi. Sì, italianizzati, sono svizzera comunque di origine. Probabilmente svizzera tedesca. E comunque qui è un bel luogo, bellissimo per anche svolgere questa attività. Noi dobbiamo essere frettolosi nelle interviste perché sono tantissimi luoghi da visitare, tantissimi gli artisti a presentare. Alle nostre spalle avete visto campeggiare fino a questo momento, nel corso delle tre interviste, la prima installazione che la stessa Elena presenterà ai nostri telespettatori. Sergio Mazzanti, artista professionista di Carrara, che presenta una suggestiva installazione ispirata alla teoria del caos e ai sistemi complessi come metafora della società contemporanea. La seconda tappa ci porta al ridosso delle mura del borgo medievale di Montegemoli, che vedete alle nostre spalle, in particolare la torre ai piedi del borgo. Sì, abbiamo la scultura ambientale di Mauro Stefanini, scultore salinese, ispirata direttamente a Dante Alighieri, il cui profilo è riportato proprio in reciprocità con il profilo del castello alle spalle. E questa scultura, che ha un po' l'impatto del teatro, ha anche un retroscena completamente diverso dal fronte, interessante da scoprire. In prossimità del giardino di Bella degli Abati, come abbiamo detto, madre di Dante Alighieri, presso il fondino di Dante, ancora Elena Capone per presentarci un altro artista. L'artista è Gianfranco Stacchi, che ha realizzato queste opere scultore, corrispondenze ispirate alla pianta dell'ulivo, di cui rivela attraverso una semplificazione le trame interne complesse e da mito solido, protettore di Atene, protagonista della vita di Gesù, diviene un po' più instabile. Ci troviamo nelle loggie del Borgo, dove si apre l'intervento del maestro volterrano Egno Furiesi e della fotografa tedesca Rita Dolman, dedicata al martirio di San Giovanni Battista. Essendo presenti entrambi gli artisti, saranno loro a presentare, purtroppo sommariamente, i loro lavori. L'opera è nata da un progetto comune con Rita e come ho cominciato a lavorare su questo martirio, che è il martirio di tutti i tempi, che lo descrivi benissimo Elena nella presentazione al catalogo. Durante il lavoro lei ha fotografato, ho visto le fotografie, e dalle fotografie è nato un altro lavoro, che è questo quadro qui al nostro fianco, quindi è un circuito che si chiude, è un'integrazione fra fotografia e lavoro, scultura e installazione. Queste fotografie possono avere il significato corale, di una corale che sta guardando questo dramma che sta succedendo. Molto belle, se ci siamo rifatti, se è rifatta in particolar modo Rita, alla scultura, alle apuane, come vedete sembra un basso rilievo nel marmo. In apertura di servizio la Presidente della Proloco ci ha ricordato come Montegemoli sia una delle capitali italiane della panificazione. Noi ci troviamo ora all'interno dell'antico forno di Montegemoli, dove per tanti anni, ma direi per qualche secolo, è uscito questo famosissimo pane. Da oggi invece ci sono delle opere d'arte. Sì, perché il sito è particolarmente suggestivo, sono stanze completamente abbandonate da molti anni e che hanno ispirato tre interventi particolarmente corrosivi della rassegna, quello di Luigi Giulio, di Enrico Pantani e di Ergal Bertel. Qui alle nostre spalle abbiamo l'intervento tempo presente e indicativo di Luigi Giulio, che è un po' un riassunto, io l'ho definita la morgue lirica, poetica, della fine del consumismo nell'epoca contemporanea di cui restano solo espressioni di rabbia, sgomento e impotenza. Sì, questo è un altro sito molto suggestivo e siamo all'interno dell'intervento di Enrico Pantani, artista giovane di Pomarance, improntato un po' alla Beat Generation e che si esprime con un linguaggio infantile ma di efficacia sintesi espressionista. Il titolo è Tonto ebete senza via di scampo e è una sorta di umanesimo arrovesciato nel senso che è l'uomo al centro del mondo ma l'uomo impotente, incapace di affrontare le difficoltà del quotidiano. Concludiamo il percorso all'interno dell'antico forno con l'intervento di Ergar Werther, Wonderland, la libertà e il popolo, che è una critica molto radicale ai fondamentalismi in generale che distruggono identità, vite e violano l'infanzia rappresentata attraverso un assemblaggio d'autore di objets trouvés, redimede, insomma cose trovate in disuso. Adesso siamo in piazza del Casalino del Borgo e siamo all'entrata delle due sale che si aprono sulla piazza, la sala della Proloco e quella di Accademia Libera Natura e Cultura dove trovano spazio i due interventi uno di tre autori molto giovani di Cecina, Tu Zero White, di Andrea Marconi, Alberto Papotto e Lorenzo Rossano e nella sala a Tigua la videoinstallazione di Ottmar Prenner. Prima di lasciare questo spazio presentiamo e introduciamo anche i Google Book, che sono le piccole invenzioni ideate dai due autori volterrani, Alessandro Togoli e Susanna Manghetti, che sono dei piccoli libretti che si aprono come un teatro, che vengono consegnati all'artista a tiratura limitatissima, su cui l'artista interviene in varie forme e che sono delle vere e proprie invenzioni e opere d'arte geniali, perché nel piccolo sta all'infinitamente grande. Siamo nello stretto vicolo che collega alla piazza della Chiesa, alla piazza del Casalino di Montegemoli e qui troviamo l'installazione Teti e le Nereidi di Silvana Pincolini, ispirata alla tradizione marina, che dialoga attraverso il vento con la tradizione dell'entroterra. Essendo l'artista qui presente, le lasciamo la parola e ci descrive l'opera. Ma è sempre difficile parlare del proprio lavoro, questi sono, li sto interpretando adesso, sono dei bozzoli, dei cocun, degli embrioni, portati dal vento che espira dal mare, che è sempre presente in questo vicolo, sono attaccati ai muri, dai quali prendono energia e danno energia, insomma, quindi c'è questo Teti e Nereidi, Nereidi sono delle ninfe marine, e appunto il tema del mare è spesso presente come il mito nei miei lavori. Adesso ci troviamo all'entrata di uno spazio attivo alla Chiesa, messo gentilmente a disposizione da Don Luciano, dove troviamo un'altra video installazione, che è la suggestiva videodocumentazione di una performance realizzata dall'artista Sven Saxalber nell'anno 2011 a Castello Ginoli di Querceto, qui vicino, dove il performer stasera sarà presente a Montegemoli, nel 2011 è rimasto per 24 ore consecutive sul campanile della Chiesa di Querceto, e questa sera presenta un'altra performance che ha realizzato in questi ultimi giorni sul territorio, e comunque è un artista che lavora sulla linea di confine fra soggetto e oggetto, fra soggetto e scultura. Ci troviamo sulla terrazza della Chiesa del Borgo, affacciata sulle vertigini dell'Alta Val di Cecina, dove è possibile sperire la vista dell'intervento di Forte Land Art di Luca Serasini, realizzato in collaborazione con Massimo Giannoni, e artista di Marina di Fisa, che è qui e oggi ad illustrarci Costellazione Toro. Buonasera, Costellazione Toro è l'ultimo capitolo, penso del mio intervento che riguarda i tori, che dipingo da tanti anni, già due anni fa feci tori terrestri, che erano 11 forme in cartapesta di tori, e adesso, quest'anno, già da un paio di anni, c'è un porto tori tra le costellazioni. È un lavoro di 150 metri di larghezza per 80 di lunghezza, 400 metri lineari di tessuto, 800 chiodi, più l'illuminazione notturna delle stede della Costellazione del Toro. Sono molto soddisfatto, ringrazio tutta l'organizzazione e Marta. Seguendo Elena Capone, ci siamo trasferiti da Montegemoli a Pomeranci, ovvero il capoluogo del comune all'interno del quale insiste Montegemoli, per incontrare dei personaggi importanti. Infatti, oggi, nell'ottocentesco Palazzo Bicocchi, nelle scuderie, più precisamente, alle 17.30, oggi è sabato 29 giugno, si inaugurerà una mostra importante dal titolo Anteprima del Segno. Importante perché è importantissimo il suo autore, un artista di livello internazionale, Mauro Staccioli, e vedendo la riproduzione di una icona del territorio volterrano, i nostri telespedatori capiranno benissimo di chi stiamo parlando, ovvero l'autore di alcune opere installate nel territorio prossimo all'ingresso di Volterra, che ne sono diventate l'icona. Certo, io...